Siamo al Campovolo Aquiloni con Eddie Romano e Nicolo Forzone, organizzatori del Reload Sound Festival. Questo posto l'1,2 e 3 luglio non sarà più lo stesso. Cosa succederà? Ci sarà la seconda edizione su Biella del Reload Sound Festival che arriva nella sua storia la sesta edizione ma la seconda consecutiva su Biella. In qualche modo, come ho detto in altre conferenze, nelle interviste, forse finalmente abbiamo trovato casa, nel senso che non abbiamo mai ripetuto le edizioni nello stesso posto, però l'anno scorso è stata un'esperienza magica, fantastica. Quest'anno ripeteremo, aggiungendo un giorno, aggiungendo la domenica. Una line-up interessante, grandi nomi italiani affiancati da, possiamo dire, grandi nomi biellesi. Assolutamente sì, è sempre stato un po' il cocktail, il format che il Reload voleva rispettare. Abbiamo rialzato di nuovo l'asticella, grazie ai numerosi sponsor. Il primo luglio riusciremo ad ospitare Marta sui tubi, il 2 luglio i Selton e il 3 luglio Eugenio Finardi. Reload che quest'anno ha anche una campagna di crowdfunding attiva, si chiama Un giorno in più, giusto? Si chiama Un giorno in più. Pur avendo trovato tutte le risorse economiche, abbiamo voluto comunque aprire una campagna di raccolta fondi, la più classica, diciamo, quindi con ricompense, magliette, gadget e tutto quello che... Cercando di sensibilizzare l'utente, gli utenti, i fruttori del festival, comunque a darci una mano, perché organizzare un festival ad ingresso gratuito ha dei costi esorbitanti. Offrire tre giorni con, appunto, tre artisti di livello nazionale è un grosso impegno economico. La trovate sulla piattaforma Eppela, tutti i riferimenti li trovate sul nostro sito, reloadsoundfestival.it e basta scegliere la ricompensa e aiutarci a sostenere il festival. Biella è, a detta di tutti, un posto abbastanza difficile per organizzare eventi. Secondo te qual è la ricetta? Non c'è una ricetta, basta aver voglia di fare le cose, come da tutte le parti. Probabilmente a Biella è venuto a mancare uno spazio importante per la fruizione della musica dal vivo e quindi diciamo che i giovanissimi, ma anche i non più giovanissimi, non sono più abituati o educati ad andare a vedere un concerto dal vivo pagando un biglietto. Per cui, cioè, basta continuare a realizzare cose in sinergia col territorio, con tutti quanti, organizzare concerti, eventi, manifestazioni, ovviamente cercando di mantenere un livello culturale, musicale interessante, ecco, cercando di sposare quelle che sono le nuove realtà, e ne abbiamo tantissime a Biella, affiancandole alle realtà nazionali e internazionali. Io mi ricordo un concerto di Vasco da bambino nell'86, nel piazzale 53, era pieno di gente, ecco, quindi magari quell'amministrazione o in quel periodo lì ci ha creduto. La data zero di Vasco allo stadio è saltata, c'è stata anche una data, mi ricordo una data dei Simple Minds a Biella con 500 persone, 500 persone a vedere i Simple Minds è un numero ridicolo, bisogna darsi da fare, ecco, punto, cioè, secondo me non c'è altro da dire che fare delle cose. Grazie Eddie, grazie Nicolò, Federica Pizzato, Diario di Biella.